hedda Reviewer.com E allora io sono qui per raccontarvi un pochettino delle connessioni quantistiche. Perché connessioni al cubo? Beh, quello che stiamo facendo adesso è utilizzare, anche se magari non vi sembra, la tecnologia quantistica perché solo conoscendo le leggi della meccanica quantistica possiamo avere un laser che mi permette di puntare qui sopra, possiamo avere un calcolatore, dei transistor, dei processori e così via. Però la storia che voglio raccontare è quella della seconda rivoluzione quantistica perché oggi quello che noi abbiamo nei nostri bit, nella nostra società digitale, bit sono 0 e 1, accendo e spengo dei circuiti, ci sono tanti elettroni che vanno e vengono, ci sono tanti fotoni che stanno in una fibra ottica, che si muovono. Cos'è la seconda rivoluzione quantistica? Per raccontarvelo voglio partire da una cosa che mi è successa ormai 20 anni fa, quando la mia prima settimana ha finito il dottorato, il mio primo lavoro all'Università di Innsbruck, io prendo la bici, esco dalla cantina, mi viene incontro una limousine nera, esce il Dalai Lama che è qui. E lui era venuto in cantina, non c'era solo la bici, ma c'era anche il laboratorio del mio collega Renner Blatt e lì, Sua Santità, ha potuto fare una cosa che a lui a scuola, a tutti noi a scuola e anche a mio figlio, recentemente è stato insegnato che non è possibile. Ci è stato a tutti detto che non è possibile vedere un singolo atomo. Allora ti dicono, sì, c'è il microscopio elettronico, forse puoi avere una cosa in diretta, eccetera, anche quello del buco nero dell'altro ieri non è veramente una foto, ma una cosa ricostruita, ma l'atomo non puoi fare la foto, non lo vedi con gli occhi. Allora, nel laboratorio del mio collega c'è una piccola trappola, vuol dire che sono degli elettrodi di metallo, insomma, dentro uno scatolotto vuoto con un vetro sopra e tra lo scatolotto e il mio occhio c'è un microscopio, sono solo delle lenti e io aspetto alcuni minuti e così ha fatto anche Sua Santità. Dopo 3-4 minuti si abitua l'occhio al buio, appoggio l'occhio sull'oculare e dentro lo vedo. Un piccolo, piccolo atomino, verdolino, tutto solo, in mezzo al buio e però io lo vedo direttamente. Quello che i padri fondatori della meccanica quantistica pensavano fosse impossibile, dicevano più facile che fare un esperimento con un singolo atomo è allevare uno dinosauro in uno zoo, come dire non succederà mai, succede oggi, succede tutti i giorni, succede in una montagna di laboratori in giro per il mondo, in giro per l'Europa e anche in giro per l'Italia, l'Italia è anche molto avanti su questo campo di ricerca e questo per me è il punto di partenza, perché in qualche modo costruire questo atomino è una cosa che è fondamentalmente inutile, è solo per la meraviglia, solo per essere affascinati se si vuole, ma questo è la base, è il fondamento su cui si sviluppano tutta una serie di cose che vanno molto in là e questo è quello che vorrei raccontarvi un pochettino. Un passo indietro, ho parlato prima della tecnologia digitale di oggi, questo è il primo transistor che è stato costruito nel 47, era una cosa grande così, poi è stato miniaturizzato, 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 oggi abbiamo milioni e miliardi di transistor su ciascuno dei chip che ci portiamo dietro in tasca, i nostri telefoni e così via. La legge di Moore è stata formulata più di 50 anni fa e dice ogni paio d'anni riusciamo a mettercene il doppio di questi piccoli elementi per i circuiti digitali sullo stesso spazio e ci costa sempre uguale e quindi abbiamo computer sempre più potenti e sempre più potenti e questo lo vediamo qui ad esempio il numero di transistor che ci sono a seconda del tempo è cresciuto enormemente da un migliaio a 20 miliardi, questo è quello che vi portate tutti quanti in tasca e però adesso questa cosa sta un po' finendo. Questa è di fatto la base per tutte le tecnologie che utilizziamo per tutti i nostri social media, i vostri social media, Facebook e Twitter senza la meccanica quantistica non sarebbero possibili, non so adesso si può discutere se sarebbe una cosa positiva o negativa naturalmente ma comunque questo ci indica chiaramente che ha un impatto molto importante su quello che noi facciamo ma adesso andare molto in là non è possibile perché se lo rendo sempre più piccolo alla fine arrivo all'atomo e l'atomo come dicevano quelli che hanno inventato la parola è quello che non si può tagliare a metà, più piccolo dell'atomo è impossibile, è un quanto, più piccolo non c'è. Allora cosa vuol dire? Che quando facciamo le cose sempre più piccole a un certo punto raggiungiamo un limite, questa crescita enorme a un certo punto si romperà e si interromperà e noi possiamo o disperarci oppure come se fossimo una grande industria di computer oppure come pure anche alcune grandi industrie di computer come Microsoft, IBM, Intel, Google che stanno investendo centinaia di milioni ciascuna ogni anno e tra alcune settimane ci sarà un annuncio molto importante da parte di Google in questo senso dicono vabbè è caduta, non c'è più questa crescita enorme, proviamo a inventarci qualche cosa di nuovo questo è uno stimolo per l'innovazione futura e questa è l'idea delle tecnologie quantistiche. Allora qui passiamo dalle connessioni alla prima potenza, quelle normali, quelle di tutti i giorni Facebook, l'internet, alle connessioni alla seconda e connessioni da paura è una cosa che aveva detto Einstein Einstein non credeva che la meccanica quantistica fosse giusta, lui era convintissimo che fosse sbagliata e ha detto adesso io vi dimostro che non può altro che essere sbagliata, perché? Perché prevede queste connessioni assurde, connessioni da paura, lui ha proprio detto, e qui c'ho un disegnino, naturalmente non vi faccio le formule, ma la differenza non è tantissima, qui ho un disegnino di un piccolo sistema quantistico come quell'atomino di prima, in qualche modo dentro, come in questo disegno di un cubo, c'è sia la figura la possibilità del cubo che la faccia in su, che la possibilità del cubo che la faccia in giù, ci sono tutte e due quando lo guardo, provate a guardarlo, in qualche modo non siete in grado di vederlo nello stesso momento da una parte e dall'altra, in qualche modo fa clic, avanti e indietro, oppure vi si stabilizza da una parte poi dovete pensarci, forse potrebbe essere anche dall'altra, quando lo guardate cade in una delle due possibilità se io ne ho più di uno di questi, e questa è una figura che ho preso a prestito da un collega premio Nobel nel 97, Bill Phillips, quello che succede ne ho due, in questi due, anche lì ci sono le due possibilità e quando li guardo, anche lì collassano, o la faccia in giù o la faccia in su, ma il trucco qui è che non conosco nessuno, provate a fare questo esercizio, che riesca a vederli uno in giù e uno in su nello stesso tempo, o li vedete tutti e due in giù o tutti e due in su Einstein diceva, è assurdo questo, perché nella meccanica quantistica posso preparare degli stati così che se io poi questi due cubetti, questi due elettroni, li separo loro sono sempre connessi e anche se ho un elettrone qui e l'altro è su Alfa Centauri io subito ne guardo uno e so immediatamente che cosa succederà lassù quando il mio collega lo va a controllare, istantaneamente. E questa è una cosa che serve per fare il teletrasporto e questa può sembrare una varzelletta. E io vi posso dire che, perché avete sentito sicuramente che c'è il teletrasporto su Star Trek e io vi posso dire, vi posso dire tranquillamente che nessuna persona verrà portata teletrasportata su Star Trek, perché per essere teletrasportati bisogna essere raffreddati molto, no? Tipo verso lo zero assoluto, quindi non è facile ricordarsene dopo che è successo, ma comunque, comunque vi posso dire che quello di Star Trek è molto più noioso di quello vero quantistico, perché in Star Trek quello che succede è beam me up, spoddy. Che significa? Trasmetti me, io so che cosa viene trasmesso e so dove viene trasmesso. Ma il teletrasporto quantistico non ha nessuna importanza dove è andato a finire quest'altro elettrone o fotone, potrebbe essere su Alfa Centauri, potrebbe essere a Milano Lambrate, potrebbe essere dove volete voi e comunque questa cosa funziona. E viene trasportato un messaggio segreto, uno stato non conosciuto, perché non posso sapere qual è prima di averlo misurato e viene trasportato in un posto che non conosciamo. E questo ancora una volta sembra una cosa inutile, magari fantasiosa, ma non tanto realistica e magari neanche tanto pratica. E invece quello che possiamo fare, e qui arriviamo alle connessioni al cubo, il terzo strato, il terzo livello, è quello nel quale possiamo utilizzare queste cose come tecnologia. Partono da chiedersi, come ha fatto Einstein, in maniera completamente filosofica se la realtà esiste o non esiste. Ad esempio ci sono stati esperimenti fatti da colleghi che hanno realizzato questa cosa di Einstein chiedendosi se la realtà esiste localmente o no. La risposta è la realtà localmente non esiste, adesso non abbiamo tempo, serve un altro talk per raccontare questa cosa, ma quello che interessa qui è che possiamo usare queste cose. Perché? Perché se io nel mio stato lo uso per trasmettere un messaggio e se questo messaggio, che può essere 0 o 1, può essere un bit di una lunga stringa, di un messaggio che voglio trasmettere, se questo messaggio, questo dato non c'è prima che io lo misuri, allora non può essere intercettato da nessuno, semplicemente perché non c'è. Lo stato, la lettera, lo 0 o l'1 appare solo dopo che io ho fatto quella misura di prima. E questo sembra una cosa fantascientifica e invece ci sono ditte che vi vendono dispositivi che fanno queste cose. C'è una ditta a Ginevra che è leader mondiale di questi temi, si chiama Ediquantic e non sto facendo pubblicità a quella ditta, sto dicendo che qui in Europa siamo riusciti, partendo da queste idee fondamentali, basilari, a sviluppare delle tecnologie che adesso veramente hanno la supremazia in giro per il mondo e a Vienna il collega Zeilinger è riuscito a fare per la prima volta il teletrasporto e lo stato a cui siamo adesso è che è possibile comprare questi dispositivi che banche e governi stanno comprando per realizzare comunicazioni sicure. Vi mando un fotone, nessuno può intercettarlo perché se lo intercetta lo rovina, lo distrugge, se qualcuno ci ha provato ci accorgiamo che ha provato a misurarlo e quindi se verifichiamo che nessuno ha intercettato abbiamo una comunicazione sicura che protegge i vostri dati, che protegge la vostra carta di credito su internet, che protegge i dati sensibili, medici e così via. E questa è una cosa che adesso succede su una distanza di alcune centinaia di chilometri e i colleghi che per la prima volta hanno fatto questa una figurina di fantasia di una decina d'anni fa, hanno realizzato questo per la prima volta, si sono accorti che magari si poteva mandarlo sul satellite e hanno provato a proporlo all'Agenzia Spaziale Europea, la quale nei successivi dieci anni ci ha dormito sopra e nel frattempo il primo autore del lavoro che ha fatto questo, che ha proposto questa idea, si chiama Jian Wei Pan, non è esattamente tirolese come potete immaginare, lui è tornato a Shanghai e dal presidente Xi ha ricevuto due miliardi di dollari che gli hanno permesso di realizzare questa cosa qui, che è un satellite cinese che in questo momento è in orbita e con il quale sono già state fatte delle videochiamate quantistiche sicure a migliaia di chilometri di distanza tra la Cina e l'Austria. E questa è una conseguenza del prendere queste particelle singole, strane, inaspettate, con questi comportamenti che non sono normali e utilizzarle per farci qualcosa di tecnologico. E questo è un esempio. E adesso ho un altro esempio che coinvolge Milano, qui vicino a noi, non lo vediamo ancora, ma se io uso un fotone, io ve lo spedisco come sulla fibra ottica e possiamo comunicare delle informazioni. Se io invece uso degli atomi, posso usarli per elaborare delle informazioni, al posto di un transistor prendo un atomo, quindi come ho detto prima lo faccio sempre più piccolo, più piccolo, alla fine arrivo al singolo atomo, lui si comporta, anche lui, l'atomo, in questo modo strano quantistico. Se ne ho tanti di questi atomi, loro sono nello stesso momento in tutti i possibili stati, tutte le possibili combinazioni, quindi se io ho un computer quantistico che riesce a manipolarli mantenendoli belli freddi, come abbiamo detto prima, quello che posso fare è, ho un certo problema, pongo una domanda al mio computer, ma invece di porre una domanda alla volta e ogni volta ottenere la risposta, io posso scrivere in questo computer quantistico contemporaneamente tutte le domande possibili e ottenere tutte le risposte nello stesso momento. È come cercare in un labirinto, invece di andare provo qui, dopo provo lì, dopo provo là, andare nello stesso tempo in tutti i possibili cammini del labirinto e voi capite che in un giro solo io arrivo alla soluzione. E questa è una potenza di calcolo enorme che può servire per l'ottimizzazione di sistemi. La Volkswagen ha usato un simulatore quantistico per ottimizzare il traffico dei taxi a Pechino e questo, come ripeto spesso, è una cosa che un fisico, quale sono io, non verrebbe in mente neanche sotto l'effetto di un influsso molto imponente di vodka, perché, come dire, il fisico non sta a pensare a queste cose. Noi pensiamo ai nostri giochini, alle nostre cosi, ai nostri atomini, eccetera, eccetera, però poi viene gente che dice, ah, aspetta che si può fare qualcosa di utile. Due settimane fa mi ha chiamato la Adidas per sapere che cosa si può fare con un simulatore quantistico. Arrivo su quello tra un attimo. Allora, qui c'è un chip della Intel con 7, 17, 49 bit quantistici, che loro hanno presentato alla fiera dell'elettronica di Las Vegas l'anno scorso. Quest'anno l'IBM ha presentato il primo calcolatore quantistico commerciale, potete comprarvelo, è stato fatto a Milano, in modo che fosse abbastanza elegante, questo non è uno scherzo, la cosa esterna è stata realizzata a Milano, in modo che avesse un sufficiente impatto visivo e quindi penso che anche qui a Busto possiamo essere orgogliosi di questo, ma quello che è rilevante è che queste cose stanno veramente entrando nella realtà. Dieci anni fa, quando ho cominciato a insegnare queste cose, dicevo ai miei studenti, sì forse magari un giorno, ma insomma, bah, e invece oggi ci sono. Questa è forse per me la cosa più incredibile di tutte in questo momento. Ho altre due trasparenze che vi voglio mostrare su altre due possibilità, una è la simulazione quantistica, uso appunto questi atomini singoli, li metto in una struttura regolare come un cartone di uova, uno a uno, e riesco a riprodurre il comportamento di nuovi materiali, magari nuovi composti chimici, li posso utilizzare per sviluppare dei nuovi sistemi chimici, di nuove sostanze, magari di sostanze superconduttive ad alta temperatura, con cui potrei fare delle linee elettriche che non disperdono elettricità e quindi subito avrei gratis il 50% in più di elettricità e invece un altro esempio è se io utilizzo dei singoli elettroni, li posso usare come sensori, posso mettere un singolo elettrone vicino a un neurone e si accorge se il singolo neurone sia acceso, sia spento in tempo reale. La Bosch in Germania sta creando un progetto pilota per mettere sensori di questo tipo su un casco che dovrebbe aiutarci a leggere l'attività cerebrale per ad esempio guidare un computer oppure persone che non possono comunicare per problemi neurologici, riuscire a comunicare con l'esterno, per diagnosi, per la medicina, c'è una montagna di applicazioni possibili. E questi sono i motivi per cui la Commissione Europea ha deciso di mettere in piedi questo programma molto grosso di cui stavamo parlando prima e se ne sta aggiungendo un altro per creare una, ne stiamo discutendo proprio in questi giorni, per creare una rete sicura di comunicazione a livello europeo, quindi un altro miliardo di euro esattamente per questa cosa e per la protezione dei dati di tutti noi. c'è un grande numero di ricercatori coinvolti, i dettagli non sono importanti, quello che è importante è che non solo c'è una connessione tra questi quattro campi che vi ho fatto vedere prima, la comunicazione, la simulazione, la computazione e la sensoristica, ma che tutto quanto si appoggia su una fondamenta fondamentale di scienza di base. Perché queste cose sono possibili, su questo voglio tornare tra un attimo, soltanto se continuiamo a chiederci, a porci le domande fondamentali, quelle che sembrano completamente inutili. E l'idea, l'obiettivo, la speranza che abbiamo è di poter arrivare in qualche modo come una missione di portare l'uomo sulla luna, ma qui vedete una bandiera di, come abbiamo visto un attimo fa, di altri continenti che sono molto avanti su questo tema e magari la nostra speranza è di poter sostituire quella bandiera o accompagnarla con una bandiera nostra. Io so che l'Unione Europea non è sempre percepita magari come la cosa più vicina ai cittadini, ma questo è sicuramente un esempio in cui l'Unione Europea può fare veramente qualcosa di forte per tutti noi, per il futuro delle nuove generazioni, perché appunto le fondamenta di questa cosa sono esattamente, vanno in questa direzione, il futuro, il futuro anche professionale, non solo di servizi, di possibilità, di possibilità tecnologiche, ma anche di posti di lavoro per le nuove generazioni e questo mi permette di arrivare di nuovo al fondamento delle cose. Questa è una slide che potrebbe sembrare stucchevole, invece l'ho messa su, ho concluso la mia presentazione davanti a una dozzina di ministri dell'Unione Europea, alcuni mesi fa ho affittato la Hofburg di Vienna, il palazzo imperiale di Vienna, non vi dico quanto mi ha costato, per fare la giornata iniziale di questi progetti che abbiamo appena cominciato e la mia slide finale era questa, perché si tratta di costruire una flagship, una nave ammiraglia e il punto fondamentale, forse l'unica cosa che mi piacerebbe che ciascuno di noi si portasse a casa oggi è questa e questo ci collega appunto con le nuove generazioni ed è qualche cosa che possiamo fare tutti noi, possiamo imparare da loro nel seguente senso, che non importa quanto una cosa sembra complicata, misteriosa, esoterica, non importa neanche quanto una cosa sembra utile, quello che importa se vogliamo avere non solo l'innovazione di domani ma anche quella del giorno dopo, anche quella delle generazioni dopo è di non smettere mai di guardare la realtà con curiosità, con meraviglia lasciandoci sorprendere, lasciandoci affascinare. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.